Finisce male la vicenda di FTX, in 5 giorni tutto e di più fallisce, in pratica il secondo exchange più grande al mondo, l'exchange delle criptovalute più regolamentato che c'era, quello che rispettava tutte le normative che aveva la Mifid, non si sa come, faceva degli imbrogli, cioè prendeva quelli che erano i soldi di tutte le persone che erano i loro customer e li usavano per fare altre cose, non c'è stato nessun controllo da parte delle autorità, nonostante questo fosse il più regolamentato degli exchange, quello che aveva la possibilità di operare praticamente dappertutto, ma non aveva evidentemente una trasferenza adeguata. Allora, dove è stato quello che è il nodo da sciogliere? Che cosa è successo? Delle persone, dei CEO, delle aziende non ci possiamo fidare questo, lo sappiamo in questo settore, ormai è imparato veramente da tanto, ma neanche delle regolamentazioni allora, perché se un exchange del genere è regolamentato dappertutto, che addirittura rispettava la Mifid e quant'altro, che indica espressamente che devono dare prova delle riserve per i loro clienti, allora quali prove sono state date? Che cosa è successo? Come hanno ottenuto queste regolamentazioni? Tutto in 5 giorni, ma non è finito qui, nel tweet di oggi Sam va a dichiarare la iscrizione al capitolo 11, vedremo anche se questa situazione sfocerà nell'arresto ovviamente del suo CEO, che teoricamente negli Stati Uniti fanno sempre così, però lui sta alle Bahamas, quindi non è la stessa cosa, bisognerà andare a vedere un po' che cosa succede, comunque qui indica in maniera chiara che si sono iscritti in maniera volontaria al capitolo 11, i fondi per, poi diciamo fa anche un'altra affermazione che mi preme farvi vedere, questo è un video breve ragazzi, non parliamo perché non guardiamo grafici, parliamo solo di questa cosa brevemente, per un piccolo aggiornamento, abbiamo seguito la vicenda in questi giorni, veramente da vicino tutti i giorni, quindi mi sembrava strano non farlo ora, loro si sono iscritti al capitolo 11, costa cambia però per tutti quelli che hanno la liquidità bloccata su FTX, c'è stata la pagliacciata ieri della questione dell'intervento di Tron che ha consentito ad alcuni di fuoriuscire, alcuni milioni di fuoriuscire dall'exchange in totale, insomma praticamente illegalità perché quelli sono fondi che vanno distribuiti fra tutti i creditori, quindi anche questo ennesimo gesto di iper illegalità nella gestione di FTX, complice anche Justin Sun, dice delle frasi ma poi ovviamente non le fanno queste cose, quindi bisogna vedere che cosa vorranno fare, insomma in pratica il token di Tron e gli altri che potevano fuoriuscire da FTX schizzano alle stelle e come vi avevo specificato in un tweet, se facevate questa cosa qui praticamente alla fine dei giochi, anche riuscendo a riprendere le vostre cripto, prendevate un meno 80%, che per alcune situazioni poteva essere anche accettabile perché l'iscrizione in capitolo 11 porta tutta la questione ad anni e anni e anni a venire, magari si ottiene qualcosina di più ma nessuno lo sa e soprattutto molti investitori non sono propensi ad aspettare tanto tempo, quindi hanno deciso di donare l'80% alla fondazione Tron magari ieri e tirarsi fuori con il 20% rimasto, una specie di frode regalizzato, ognuno ha le proprie opinioni, io non ne parlo di queste cose, ma certo non un'altra bella figura per FTX ragazzi, poi Sam parla che è ottimista su Mr. Ray, Mr. Ray ragazzi è il curatore fallimentare praticamente, no è il nuovo stea che ha messo FTX che curerà il fallimento dell'exchange, però poi ragazzi mi premeva farvi vedere una cosa molto interessante che è questa qui, eccolo intanto ragazzi scrive che andrà a lavorare per dare maggiore chiarezza sui termini per il recovery per i user, quindi quelli che sono rimasti all'interno di FTX, anche io sono con un pezzettino del mio patrimonio dedicato al trading all'interno di FTX ragazzi, quindi siamo stessa barca e poi scrive questa frase che io l'ho interpretata, questa va interpretata perché bisogna comprendere che cosa vuole dire Sam qui, dice che scriverà un post più completo on the play by play, but vuole essere sicuro di avere tutti i pensieri a posto e di farlo nel modo giusto, che significa questa cosa qui? Perché non ci dimentichiamo ragazzi che se questi soggetti hanno qualcosa nella sacca, è un revenge nei confronti di eventuali questioni contro CZ, perché lui nel post di ieri ha palesemente indicato una vittoria da parte del suo competitor, l'ha chiamato lo sparring pattern partner, e questo significa anche che c'è del rancore, sicuramente in questa situazione dovete tirare fuori dalla sacca una serie di informazioni che oggi noi non conosciamo, succede un ennesimo crash, un ennesimo polverone, un ennesimo disastro, al momento non c'è nulla di tutto ciò, può essere il, come si dice, il classico atteggiamento da sbruffone di chi è un fallito in questo momento e ha fatto un disastro agli occhi di tutti, tutto il pianeta in pratica provocando un danno all'intera industria delle cripto, oppure no, questo non lo sappiamo, nelle prossime giornate dovremmo andare assolutamente a vedere questa cosa qui. Morale della favola, per quanto riguarda la questione dei clienti, impariamo alcune cose, intanto nel settore delle criptovalute, le stesse regolamentazioni e la stessa qualità di una piattaforma che era top leader in termini proprio di qualità e dashboard, non sono rilevanti come, ancora una volta, il team, ragazzi, e il team che gestisce ogni cosa, cioè il fattore umano che gestisce ogni cosa, rappresenta il 90% di ogni attività. Questo significa che loro magari avevano anche tutte le riserve quando hanno avuto le regolamentazioni, poi hanno giocato astuzia, li hanno sfostati, hanno fatto altre cose. Quanti sono, tra l'altro, gli attivi ancora rimasti ad Alamida, li ha venduti quei Solana? Tutte queste risposte dobbiamo averle ancora, ragazzi, e capire quanto resterà di quel capitale su FTX. Solitamente, nelle cause fallimentari, che ci vuole tanto, tanto tempo, un 20% viene quasi sempre recuperato, almeno così è nell'old market solitamente, in una situazione del genere potrebbe essere anche qualcosina di più, se effettivamente tutto quello che hanno detto sui attivi di Alamida è confermato, e starà confermato. Quindi questo lo sapremo nelle prossime puntate, diciamo, nei prossimi episodi. Cosa fare per chi di voi, in questo momento, come me, sta cercando nuove situazioni, nuovi exchange dove fare del trading, ragazzi. Se fate trading spot c'è Binance, se non fate trading spot, fate trading future, che poi è quello che ci interessa di più, visto che nello spot lo short selling non si può fare. Per quanto mi riguarda, io al momento sto utilizzando BigGet, da qualche mese continuo a usare il loro exchange, perché questa mattina hanno detto che anche loro faranno la proof of reserve, poi vediamo dove sta, eccetera. Io intanto uso quell'exchange lì, ragazzi, vi lascio il link solito e quant'altro, e in pratica lo uso al posto di FTX per il trading. Però una cosa ve la devo dire, questo perché è fondamentale ricordarlo, forse è un po' di tempo, magari un paio d'anni, che magari non ricordiamo questa cosa, ma anche relativamente agli exchange che voi utilizzate, ragazzi, dovete mettere lì tutto quello che vi serve per fare il trading, non quello che voi tenete bloccato, perché quello che tenete in olde lo dovete spostare sui wallet privati, anche se è un po' scomodo, a volte perdete le chiavi e uscite di testa, però negli exchange va solo quello che usate per la vostra attività di trading, e stop, ragazzi, se no c'è nient'altro da fare. Io farò così su BigGet, eccetera, al momento. Poi dopo la proof of reserve che pubblicheranno, mi regolo di conseguenza, se mi piace o non mi piace, se ci sono aggiornamenti vi farò sapere. Non trovo altre piattaforme al momento per operare in Italia sui futures, perché Binance fuori Italia sui futures si può utilizzare. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Binance, per niente, ragazzi, questa messa in scena creata appositamente da domenica poteva essere gestita certamente in modi diversi da CZ, quindi sicuramente c'è stato uno zampino da parte sua nel creare questo patatrack e poteva farlo diversamente se non voleva creare tanti danni al mercato. Magari non lo sapeva neanche lui, quindi accusare non ha senso, però sicuramente la gestione in toto è stata una grande buffonata sia da parte di Sam che dall'altra parte. Ovviamente il ladro in questione, cioè chi proda in questione è Sam, e ovviamente non dobbiamo dimenticarlo, però ogni cosa si può gestire anche in modi più delicati, magari in modi meno aggressivi che meno impattano poi sui investitori retail, ragazzi, perché parliamoci chiaro, alla fine di questi giochi poi i retail sono quelli che subiscono di più. È vero che in FTX ci sono i grandi fondi, hanno perso milioni e milioni e milioni di dollari, però i grandi fondi sono fondi, mentre i retail è il loro risparmi di una vita, o magari, o quant'altro. Perciò è più utile ragionare a chi viene danneggiato sulle cose personali che rispetto magari a chi viene danneggiato per, diciamo, attivi come, insomma, investi che c'è. Quali sarà il prossimo? Molto stanno cercando questa domanda. Io personalmente ho ripulito moltissime delle mie posizioni che erano presenti. Non ho più Sepai in questo momento attive. ho tolto tutto dalle Sepai, ma non perché ci siano dei rischi, ho analizzato dei rischi, ve lo dico francamente perché semplicemente non vi piace questa situazione e poi è un momento in cui bisogna riflettere, quindi è meglio stare più tranquilli. Ragiono anche su altre cose e se prendo altre decisioni, come sempre, vi informo. Per oggi è tutto e è andata a finire così. Su di morale, per chi, insomma, ha i fondi su FTX, ragazzi, c'è poco da fare. Non è colpa vostra e in questo caso assolutamente non lo è. Quindi non è come la questione Luna, non è come avere delle abisaglie, non è neanche come Celsius perché FTX, ragazzi, è un exchange, non una Sepai che fa investimenti al vostro opposto. È un exchange, quindi un posto dove voi scambiate, e quindi i soldi li potete perdere solo voi su un exchange sbagliando il trading. Non possono loro prendere i vostri fondi e bruciarli perché questo avranno fatto, probabilmente hanno fatto il paio dei tip e hanno bruciato i fondi perché non possono sparire fondi di quell'entità, li hanno sicuramente bruciati con attività di trading o altre speculazioni totalmente sbagliate e loro non possono farlo questo, ragazzi, quindi non è colpa vostra, non è un atteggiamento che potevate evitare in nessun modo. Infatti neanche le grandi istituzioni sono riuscite a evitare. Questa è una prova e bella e buona. Ricordatevelo, quindi non vi date colpe su questa cosa. Va bene? State un po' sereni, le cose si riprenderanno sicuramente. Ci vediamo nella prossima settimana. Ciao ragazzi!